Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di piatti rotti. Allora c'è sempre un po' la cosa di dire un piatto è rotto e basta lo devo buttare. Non è così, non buttate i piatti rotti, mi raccomando non buttate niente. Questo piatto qua rotto si può ancora utilizzare. Qualche piatto l'ho rotto devo ammettere, anche se i piatti che vi faccio vedere oggi per fortuna non sono tutti miei, non li ho rotti tutti io. Però vi voglio far vedere una cosa veramente figa da fare con questi piatti. Semplicemente andremo a fare degli stacks e ringrazio tra l'altro Sebastiano Castellan che metterò qui sotto, metterò il suo commento qui sotto per avermi chiesto di fare un video così, per avermi dato anche l'idea per questo video. E cioè cosa sono questi stacks? Come vi ho fatto vedere anche nel video di Portnoy dove avevo accoppiato dei piatti, anche se li avevo accoppiato solo dei splescini e dei cianini, diciamo piatti piccoli. Quello che vi voglio far vedere oggi è che non dobbiamo per forza accoppiare solamente dei piatti piccoli, ma possiamo fare tutto quello che vogliamo con qualsiasi tipo di piatto. Ma accoppiare in che senso? Andremo a mettere uno sopra l'altro i piatti in un certo modo e proveremo a tirarci fuori un suono. Cosa succederà? Vediamo. Quindi per creare degli stacks non è che abbiamo regole, la regola è solo che deve suonare bene. Però poi detto questo possiamo usare piatti di qualsiasi grandezza, di qualsiasi tipo e non dobbiamo per forza avere piatti super costosi, vanno bene anche dei piatti economici. Perché? Perché poi quando sentirete il suono capirete, non abbiamo per forza bisogno dei piatti più belli che abbiamo, che abbiamo rotto. No, non vi preoccupate, quelli cercate di non romperli. Possiamo usare tranquillamente dei piatti anche economici o magari i primi piatti che avevamo, non lo so, che si sono scheggiati, questo non si vede ma è da qualche parte rotto, eccolo qua, per creare i nostri stacks. Quindi la cosa importante raga è che non è che basta mettere due piatti uno sopra l'altro e stiamo a posto, suona bene, figata. No, ci possono essere combinazioni che funzionano e ci possono essere combinazioni che vanno schifo. Quindi oggi voglio andare a far vedere i due stacks, le due combinazioni di piatti che mi piacciono di più e che molto spesso uso, anche live quando vado in giro ogni tanto me le porto dietro. Quindi partiamo dal primo, andiamo a togliere il ride, anche se in realtà questa cosa si può fare anche con i ride. Se fate degli stacks usando i ride, cercate di prendere dei ride non troppo troppo grandi, 22 e 24 sono un po' grandini e soprattutto non prendeteli troppo spessi. Ah, vi ricordo che gli stacks non è che bisogna farli solo per i piatti rotti, potete farli con tutti i piatti, se avete dei piatti sanissimi lo stacks lo potrete fare lo stesso, ovviamente. Quindi partiamo, il primo stack che vado a fare è con un china oriental della Zildian da 18 pollici, il 302 della Paist che questo qua è un charleston, è un top di un charleston, quindi un piatto un pochettino più spesso da 14 messo sopra così e poi quello che vi ho fatto vedere all'inizio, questo povero HHX da 18 che ne ha subite troppe. In realtà se ve lo suono potete già sentire subito che il suono è molto particolare, però è un po' troppo lungo questo suono, non finisce più, perché una cosa importante degli stacks è come andate ad avvitare la vite sopra, quanto la tirate in pratica. Io di solito quando ho degli stacks con tanti piatti così, ad esempio tra piatti sono già comunque abbastanza, cerco di tirare tanto la vite sopra in modo che il piatto muova il meno possibile. Al massimo gli metto anche due gommini sopra in modo che stringa bene e si muova il meno possibile. Il secondo tipo di stacks che vi voglio far vedere, mentre tolgo questo crash che comunque non mi serve a nulla, è questo. Prendiamo l'FX della Zildian, questo qua raga è un piatto fighissimo, è figo sia da rotto sia da sano, è figo sempre. Però sotto quelle FX lì gli andiamo a mettere uno spleccino. Questa è una cosa che fanno molti batteristi, io l'ho vista fare principalmente a Max Fodian, ve ne parlo sempre, ma perché lui mi ha dato un sacco di idee. Quindi lui metteva uno splash e poi sopra gli andava a mettere le FX e questo raga è una figata pazzesca. Questa cosa qua è veramente una figata, si può mettere anche lo splash sotto a un crash normale, è carino, non è male, provateci, anche se a me piace molto di più con questo piatto qua sopra. Spero di avervi dato qualche idea in più per piatti, effetti, cose, mi raccomando le cose che vi ho detto oggi non è che dobbiamo usarle come crash, non è che adesso dobbiamo farci tutto il set solo di piatti stacks, no, perché questi piatti qua sono un pochettino più effetti, non sono piatti veri e propri. Ogni tanto quando voglio andare magari del pepe in più, un sapore diverso al nostro groove, al nostro feel, non lo so, è carino mettergli anche un piatto diverso con un suono non convenzionale che non sentiamo sempre, non il solito crash, il solito splash. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se voi avevate già fatto degli stacks, se voi ne usate qualcuno particolare e ditemi la vostra. Quindi se c'è qualcosa in particolare che vi piace scrivetemelo qui sotto nei commenti, se c'è qualcosa in particolare che mi volete chiedere scrivetemelo qui sotto nei commenti, se volete leggere l'articolo sul sito Castube di questi piatti, di questo modo, andate qui sotto in descrizione perché trovate tutti i link del caso, ma ormai lo sapete già, oltre a questo link trovate il link di Instagram, di Facebook, di Instagram, cose, ma ormai sapete tutto, sapete anche come finirà questo video e invece no, perché lo farò finire diverso. Così, ciao!